Ciao e benvenuto su Top Tech Italia. Oggi ti presento la nostra top 4 delle migliori seghe a nastro del 2021. Iniziamo! Dal quarto posto abbiamo selezionato la sega alternata Makita JR3050T. La sega alternata Makita JR3050T offre un facile utilizzo grazie alla sua maniglia ergonomica che si trova nella parte posteriore. Così il suo utilizzatore la tiene come se stesse usando una manovella. Infatti è una posizione molto piacevole per una manipolazione perfetta. Segnaliamo inoltre che si tratta di un dispositivo a corrente rete fissa. Questo permette di operare per lunghe ore senza troppe complicanze. Quindi è una sega multifunzionale che viene fornita con tre lame. La prima è una lama universale, in altre parole è in grado di tagliare diversi materiali. La seconda è adatta per tagliare il legno, poi un'altra lama che viene utilizzata per tagliare il metallo. Basta dire che è una macchina versatile. Questo macchinario offre 1010 watt di potenza e 2800 giri al minuto. Come al solito su Top Tech Italia se vuoi avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet vai alla descrizione di questo video. Lì troverai tutti i link a portata di mano. Al terzo posto abbiamo selezionato la sega elettrica a batteria Yechika RS 22D. La sega senza filo Yechika RS 22D è una delle migliori seghe a sciabola che si adatta ai professionisti dell'elettricità, della ricostruzione, ma anche agli appassionati del bricolage. Su questo dispositivo notiamo la presenza di 4 ingranaggi a livello della piastra inferiore. Questo permette di regolarlo e di avere un controllo sulla posizione di taglio della lama. Troviamo anche un grilletto a velocità variabile. Questo va da 0 a 2800 giri al minuto. Così è possibile tagliare diversi tipi di materiali, tra cui legno, metallo e PVC. Questa macchina incorpora un interruttore di sicurezza e un interruttore di velocità. Questo evita quindi qualsiasi incidente dovuto a manovre avventate. Trovate anche una lampadina LED che vi permette di lavorare e avere una buona visibilità in un ambiente buio. Al secondo posto abbiamo selezionato il Bosch Professional Cordless Saw 0601-6A501. La GSI professionale Hellbox è un concentrato di potenza a basse vibrazioni. Con la sua forma compatta per un uso versatile, questa è la migliore sega alternata attuale di Bosch. Inoltre combina le massime prestazioni e l'estrema leggerezza, così puoi eseguire i tuoi lavori di taglio più difficili con grande precisione. Questa sega da banco a batteria Bosch è ideale per tagliare il metallo, legno, materiali isolanti, plastica e legni compositi. Inoltre è ben compatibile con tutti i caricabatterie da 18V di marca Bosch. Di conseguenza è possibile trovargli facilmente un caricabatterie di ricambio se il suo dovesse mai perdersi. L'altro vantaggio da notare qui è che questo modello offre un perfetto equilibrio. Ciò consente di eseguire vari lavori. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet, clicca sui link nella descrizione. Mi raccomando! Al primo posto abbiamo selezionato il Bosch Professional GSA 1100. Qui abbiamo un altro modello Bosch, il GSA 1100, il migliore, la migliore sega a nastro nel nostro confronto. Fin dall'inizio ha un potente motore da 1100W, così assicura un buon progresso durante tutta la fase di lavorazione. Inoltre è possibile fare una preselezione coordinata della velocità di rotazione di ognuna procedura di taglio. Con i suoi led situati nella custodia, infatti, la visibilità è ottimale. La sega alternata Bosch GSA 1100 ha un sistema di cambio a lama DSS. Ha un sistema di cambio lama SDS. In questo modo non dovrete perdere tempo a sostituire la lama, poiché è un processo facile e veloce. Troverete anche una guida che vi offre un lavoro parallelo sulle pareti e piastre per tagli dritti. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice. Vai alla descrizione di questo video, clicca sui link, per ottenere tutte le caratteristiche tecniche più complete e trovare i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a decidere mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato sui nostri video.